buonasera a tutti e grazie per l'opportunità che mi date di portare un saluto a questa meravigliosa serata insieme in divertimento e però anche di riflessione e di raccolta fondi soprattutto grazie perché l'associazione dudu for you o dv ha deciso di devolvere il ricavato di questa bellissima serata la struttura complessa di ematologie tra pianto delle cellule staminali emopoietiche e grazie anche alla sst valeolona di busto arsizio anche per tutto quello che fa quotidianamente io vi voglio ringraziare voglio ringraziare anche tutte le persone che si sono dedicate all'organizzazione di questo momento grazie anche al consigliere albani alessandro del territorio per l'invito e per tutto l'impegno che mette nel mondo sociale ma soprattutto grazie ad ognuno di voi che ogni giorno al servizio degli altri riuscite a costruire percorsi che valorizzano le persone che sono al servizio degli altri questo è un po' lo spirito anche della riforma sulla disabilità che stiamo portando avanti che vuole insomma in qualche modo avere uno sguardo nuovo non vedere solo i limiti ma le opportunità investire sugli altri e guardare alle potenzialità di ogni persona io credo che per farlo sia indispensabile benessere la salute quindi alla base di tutto c'è quello per ognuno di noi e poi però c'è anche una dignità nel percorso di vita che deriva dalla dimensione sociale relazionale affettiva dalla possibilità di stare con i propri amici di divertirsi dal diritto di tutti di essere felici quindi grazie per questa meravigliosa serata per questa iniziativa e per tutto quello che continuate a fare insieme sul territorio saluto con affetto ognuno dei partecipanti tutte le persone insomma che in qualche modo si danno da fare per questa serata e per i tanti eventi che si susseguono durante l'anno sul territorio ma un grande grandissimo abbraccio naturalmente a tutte le persone con disabilità alle famiglie a tutti coloro che naturalmente nel corso della propria vita hanno una sfida da superare anzi proprio a tutti noi che nella vita abbiamo una sfida da superare si può fare si può fare soprattutto quando vicino c'è qualcuno che ci sostiene ci accompagna e non ci fa sentire mai soli quindi buona serata a tutti e a presto